Benvenuti nell'asilo Nido Rauco, visto che siamo sotto le feste e non ci sono le scuole, ci sono i bambini in giro per casa e uno di loro probabilmente parlerà anche dopo. In questo video, in questo video, che sarebbe lui, in questo video festivo, Natale e Capodanno, vi parlo di tre film che sono usciti in questo mese e che sono tre film molto, secondo me, adatti, interessanti per le feste. Io sono Emanuele Rauco, benvenuti su questo canale e, come capite, è un video natalizio, questo è un chiaro sintomo di natalizzità. Se siete appena arrivati su questo canale, iscrivetevi, attivate la campanella, così vi arrivano tutte le notifiche, ma soprattutto andate a spulciare, ho fatto circa 800 video, quindi andate a spulciare delle cose che vi piacciono e fatemi sapere cosa vi piace, cosa vi piace meno, eccetera. Questo film non sono i film migliori delle feste, i film migliori di Natale, non sono neanche i film migliori dell'anno. Se vi interessa la classifica con i film migliori del 2023, la farò live con, per favore, è un asironito, d'altronde. La farò live con Riccardo Giannacone in una speciale puntata live di un podcast di troppo. Detto questo, sono tre film di cui vi voglio parlare, che sono usciti nell'ultimo mese. Andiamo in ordine di tempo, cioè in ordine di uscita, che però è anche un po' un ordine di gradimento dal mio punto di vista. Primo di questi è Silent Night, il silenzio della vendetta, credo che sia questo il titolo, il sottotitolo italiano, che è il nuovo film di John Woo, a cui dedicherò prossimamente, penso già insomma la prossima settimana, una monografia video. Detto questo, è il suo nuovo film. Negli ultimi anni, diciamo da quando è tornato in Cina, a Hong Kong, dopo la parentesi americana, quindi fine anni zero, non ha lavorato moltissimo. Ha fatto pochi film e dopo otto anni circa dal suo precedente film, che era The Crossing, era un film in due parti, un super coros al cinese, è tornato in America con veramente un B-movie di quelli come raramente si fanno e soprattutto si fanno per l'on video. Silent Night è una storia di vendetta molto classica, cioè un padre, che per una lotta tra gang perde il figlioletto piccolo durante una sparatoria e quindi decide di attrezzarsi e vendicarsi. La particolarità del film è che è tutto senza dialoghi, è praticamente tutto senza dialoghi. Si sentono delle parole, ovviamente si sentono i suoni, i rumori, le musiche, ma non ci sono i dialoghi. Perché? Perché il protagonista ha perso, come dire, per una ferita ha perso la possibilità di parlare. E quindi V come regista e soprattutto il suo sceneggiatore devono concepire questa storia tutta attraverso semplicemente le immagini, i movimenti e le possibilità che il racconto cinematografico dà. Rispetto a quanto aveva fatto nei suoi B-movie americani, questo mi sembra un film, un passo avanti. Allora, diciamo che non è stato accolto benissimo, ma questo lo si poteva immaginare. Anche perché però, questa è una mia idea, chiedere a un regista come V, che ha fatto quello che ha fatto tra gli anni 80 e gli anni 90 e anche i primi anni 2000, di essere come era 20, 30, 40 anni fa, di fare quelle cose e di farle in quel modo, e di essere lui, cioè come se tu chiedi a un atleta di 20 anni, cioè a un atleta di 40 anni, di essere uguale all'atleta di 20 anni. Non puoi chiederlo. E quindi la stessa cosa vale per gli artisti, vale per i registi. Detto che appunto ha una festeria a chiederglielo, il film secondo me è un film riuscito. Allora, è uno stile, diciamolo, è uno stile in cui si sentono le marche forti di Wu e allo stesso tempo è un po' uno stile impersonale che deve adattarsi a un certo tipo di... al cambiamento del mondo, al cambiamento del mercato, al cambiamento del cinema. Detto questo, quindi fatta e salve tutti i difetti proprio strutturali di produzione con film del genere A, a me è sembrato un film molto efficace nella narrazione, appassionante, avvincente, estremamente ben realizzato nelle sequenze d'azione, questo appunto, uno dice grazie al ciufolo, essendo già un Wu quello che è stato, però proprio per come è cambiato il mercato e come è cambiato il cinema, non era detto. E l'utilizzo della computer grafica, che di solito è quello che ammazza certi tipi di prodotti, in questo caso è veramente ben dosato e ben curato. Ed è anche, appunto, con quegli elementi caratteristici tra azione, violenza e melo e pathos e sentimento, è anche, come dire, commovente. Il finale, poi è chiaro, cuore di papà, e soprattutto per quel tipo di finale lì, è davvero toccante. Quindi detto questo, è un film che però, appunto, è un bimovie, quindi sconta tutti i limiti, però è un film, secondo me, perfettamente riuscito e consapevole dei suoi mezzi e del modo di gestire i suoi mezzi. Il secondo film di cui vi parlo è, mi serve qui il, come dire, l'esperto, perché è Wonka, che è il musical con Timothee Chalamet, che racconta la giovinezza di Willy Wonka, cioè prima che costruisse la fabbrica di cioccolato, e l'ho visto insieme a lui. Allora, intanto chiedo direttamente a lui, com'è il film, ti è piaciuto? Bello! Senti, ma cosa c'è di bello nel film? Cosa ti è piaciuto di più? Dimmi un po'. Vediamo. Adesso sta pensando. Adesso sta pensando, vabbè, insomma, appunto, racconta la giovinezza di Willy Wonka, quando sbarca in questa grande città per dare vita al suo sogno di diventare un grande maestro dolciario, soprattutto un grande maestro cioccolataio. E però si scontra, intanto con le difficoltà della città, con le difficoltà del mercato, del capitalismo, del capitalismo, come dire, cattivo, tra virgolette. Ci sarebbe poi da fare delle riflessioni sul capitalismo nel film, magari le faccio. E deve, appunto, mettere insieme il suo fatto di avere questa grande passione per il cioccolato, ma anche con il fatto di essere sostanzialmente un mago, se vi ricordate il vecchio film, sia quello con Jim Wilder, sia quello con Johnny Depp, vi ricordate che, appunto, Wonka è anche un mago, forse soprattutto un mago, prima che un... Devo prendere una cosa. Vai, vai a prendere una cosa. Che è un maestro dolciere, dolciario, e raccontarlo, appunto, come fosse una grande fiabba di magia. Paul King, che è un regista, anche lui inglese, britannico, che è una delle quintessenze, secondo me, del cinema britannico recente, e che ha fatto due film straordinari, che sono i due film di Paddington, e in forza di quelli è stato poi chiamato da Warner Bros. per fare Wonka, che è un musical, esattamente come era il vecchio film del 71. Devo salire. Devi salire, devi dire qualcosa? Ah, no, per l'ora così devo dire qualcosa. Ah, ma comunque tu ci fai... Tu sei qui, se c'è una cosa da dire, che tu sei l'esperto di Wonka, ce lo puoi dire. E il film, appunto, Paul King, ha questa grande capacità di creare atmosfere fiabbesche, che allo stesso tempo non sono melenze, non sono, il gioco di parole banane, ma, zuccherose rispetto ad altri film, soprattutto rispetto ad altri mondi, che Hollywood e Le Major hanno creato. Cioè riesce a essere dolce, ovviamente, riesce a essere molto vivace, è una specie di versione per bambini di Wes Anderson come stile, e qui, pur calmierato rispetto a quella che è l'ottica di Warner Bros., e quindi di un blockbuster, è un film che riesce a, come dire, a tirar fuori delle bellissime invenzioni divisive, ci sono delle belle canzoni, ci sono dei momenti molto comici, cioè riesce a mettere insieme tutti gli ingredienti accontentando il, come dire, il pubblico, diciamo, di massa, più o meno, che vuole vedere un tipo di film con i figli, con la famiglia, ma allo stesso tempo gli amanti dei due Paddington e di un tipo di film a fiabbesco, però un pochino più raffinato, un pochino più elaborato, devi dire una cosa. No, devo andare a prendere. Vabbè, ma quindi, alla fine, aspetta, tu devi andare a prendere una cosa, va bene, però ti voglio chiedere, di a chi ci guarda. Ma, quindi, il film ti è piaciuto? Sì. Tanto, poco? Nel giusto? Nel giusto. Nel giusto. Lo rivedresti? Sì. Insomma, ci sono delle parti divertenti? Quali sono le partite che ti hanno fatto più ridere o ti hanno più emozionato? Mi hanno fatto più ridere quella parte del capo della polizia che ci mangiava dopo il cioccolato e aveva il pancione grosso. Ah, ok, quella parte ti ha fatto molto ridere. Ok, devi andare a prendere una cosa. Vedetela quella parte. Vedetela quella parte, ma vedetevi tutto il film, soprattutto con i bambini, poi, se siete amanti del musical come me, anche da soli, secondo me il film ve lo godete. E poi, vabbè, dicevo, c'era quel discorso sul capitalismo. Non è un film anticapitalista, come è stato scritto da qualche parte. Ma è un film che ragiona su un certo tipo di capitalismo. Cioè, è proprio un film, come dire, con lo spirito americano. Cioè, l'imprenditore, il cosiddetto Maverick, cioè l'imprenditore solitario, l'imprenditore che fa tutto per il bene della propria azienda e dei propri dipendenti e del proprio pubblico e non entra nel, come dire, nel fango del, chiamiamolo così, capitalismo di Stato. Cioè, il capitalismo che diventa politica, il capitalismo che corrompe. E quindi, questa è quella cosa che diceva Andrea nel Capo della Polizia. Il Capo della Polizia viene corrotto dai tre grossi proprietari delle grandi industrie di cioccolato a suon di cioccolatini. Però è un film, appunto, coloratissimo, pieno di invenzioni, pieno di vita, pieno di ritmo e che non dà mai l'impressione di essere una fredda macchina da racconto infantile. Anzi, cioè, in questo senso, fa sentire, come dire, l'amore che King e i realizzatori del film hanno verso la materia e verso il loro pubblico. Chalamet, sorpresa, cioè, non lo pensavo, ma è veramente perfetto per questo tipo di incarnazione del ruolo. È stato il film criticato perché i Wonka adulti, cioè quelli interpretati da Wilder e Depp, erano più inquietanti, erano più oscuri, erano più anche cinici, anche un po' cattivi. Questo no. Allora, e sono due cose da dire. Allora, posto che è una scelta precisa e quindi come tale discutibile, è una scelta fatta per un certo tipo di pubblico e per un certo tipo di mercato e quindi anche questo è discutibile. Però, non la voglio giustificare narrativamente per dire sì, però è giovane, quindi magari era più sognatore, quando diventa adulto si un po' indurisce, si incubisce. Questo potrebbe essere anche vero. Ma proprio dal punto di vista cinematografico, è una scelta che vuole essere qualcos'altro e quella scelta la porta a compimento, secondo me, nel migliore dei modi. E quindi Wonka è il secondo film di cui vi parlo. Il terzo, che è il più bello tra questi tre, è uno dei più bei film del 2023, è Foglia al vento di Haki Kaurismaki, a cui dedicherò poi anche un chiedichiera, il prossimo chiedichiera, cioè ci sarà John Woo prima e poi Haki Kaurismaki, che è uno dei miei registi contemporanei preferiti, è proprio la mia tazza di tè. Foglia al vento è, oserei dire, un Kaurismaki in purezza, un distillato di Kaurismaki, cioè due disperati o quasi, cioè due persone comuni colti in un brutto momento della loro vita, tutti e due più o meno licenziati per diversi motivi. Lui perché dedito un po' troppo all'alcol, lei perché portava a casa dal supermercato in cui lavora le cose che stanno per scadere, che avrebbe dovuto buttare e che invece tiene per non sprecarle, per mangiarle e per risparmiare, quindi vengono licenziati e si incontrano un po' per caso, un po' per sbaglio e si devono inseguire, cioè fingono di fregarsi l'uno dell'altro, in realtà sono profondamente innamorati di quell'amore molto laconico, molto silenzioso che è dei film di Kaurismaki e non solo, dei film nordici, però tu senti che c'è il sentimento, c'è l'emozione, questa è una delle grandi cose di Kaurismaki, cioè raccontarti i sentimenti mentre finge totale impassibilità e quindi poi fa scattare una scintilla ancora più forte in questo senso. Ed è un loro inseguirsi, cioè loro devono sfidare il destino, il caso, il fato, la fortuna e la sfortuna per rincontrarsi e alla fine in un film che è anche qui un miracolo di equilibrio e sintesi, 80 minuti, alla fine di questi 80 magnifici minuti riesce a fare una storia d'amore perfetta che è anche un film comico, secondo l'idea di comico di Kaurismaki, perfetto, e che è anche un racconto sulla realtà, ecco un po' come se fosse la versione stilizzata di Ken Loach, un racconto sulla realtà presa da piccoli elementi, anche questo però molto prossimo alla perfezione, con un amore per il cinema, per l'immagine, per il racconto, per immagini, che è una di quelle cose che mi scalda sempre moltissimo il cuore. È veramente come fare un film fuori dal tempo, un cinema fuori dal tempo, che sia invece perfettamente dentro i nostri tempi, ma che non voglia raccontarli con la volgarità di questi tempi, ma voglia invece, senza edulcorarli, cioè senza coprirli di glassa, ma voglia invece in qualche modo farne la tela su cui dipingere dei personaggi che conoscono l'amore, che conoscono la bellezza, che conoscono la gioia. C'è l'amore per la musica, c'è l'amore per il cinema, qui veramente, con una, ecco, una delicata, non so se è il migliore film di Kaurismaki, però è davvero uno dei più puri, cioè uno di quelli in cui anche per l'età, anche per il fatto che anche lui lavora sempre meno, quando lavora vuole ridurre tutto all'essenza, e qui ci riesce. Intanto spero che questo video vi sia piaciuto, spero che segnerete questi consigli, ve li andrete a vedere e nei commenti mi farete sapere cosa ne pensate. Ciao anche a me, devo dire una cosa. E devi dire una cosa, che devi dire? Vai, dillo, dillo. Non toccare il microfono, se no si fa rumore. Grazie di aver visto il video del cinema all'acqua, e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ecco, lui ha anticipato i saluti, ma insomma li faccio anch'io. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, e oltre ad iscrivervi potreste supportare in vari modi il mio lavoro, per esempio abbonandovi al canale. Sto cercando di organizzare una live con gli abbonati, sia del canale, sia di By Mia Coffee, e per inizio anno, appena posso, vi faccio sapere come e quando, e la facciamo. Però insomma, anche lui la fa, e se non sta a scuola la ci sta anche lui. Poi, nell'info box ci sono tutte le informazioni per supportare il canale, e niente, buon Natale, buon anno, buona fine, buon principio, ci vediamo con i nuovi video, i nuovi live, i nuovi podcast. Ciao a tutti!